Gestione a Trenord per fare in modo che i pendolari possano parcheggiare gratuitamente, favorendo così, chi raggiunge con regolarità la stazione in bicicletta e disporre rastrelliere lungo la recinzione esterna per chi non ha accesso all'interno, anche allo scopo di liberare i pali dalle decine di bici che attualmente vi vengono legate, migliorando significativamente il decoro della piazza. Sono le proposte che Abbiate in Bici, sezione abbiatense della FIAB, propone per superare la situazione di abbandono e degrado, denunciano, in cui versa il bicipark della stazione di Abbiate Grasso, con all'interno, dicono dall'associazione, erbacce altissime e rifiuti accumulatisi nel tempo e mai rimossi. Entrare e uscire è un terno all'otto, non si sa mai se e quale cancello si aprirà o no, con quale combinazione di tessere e cippo o anche senza, da che distanza e con che tempi di risposta. Rendere la fruizione del bicipark gratuita ai pendolari è aspetto determinante, secondo Abbiate in Bici. Oggi, dicono, ad Abbiate Grasso parcheggiare la stazione costa 55 euro l'anno per le bici, ma ancora niente per le auto. Una disparità di trattamento incomprensibile che penalizza chi non inquina e non sottrae prezioso spazio agli usi sociali. Che la mobilità sostenibile non sia una priorità del nostro comune è evidente, ma c'è un limite alla trascuratezza. La ferrovia, concludono, è una porta di ingresso importante per Abbiate Grasso, dove chi arriva riceve la prima impressione sulla città.